Ciao a tutte, il buongiorno si vede dal mattino, questa è una sacro santa verità, ma è difficile che tu possa vederlo se sei già in ritardo o appesantita ancora prima di iniziarlo. In questo video ti voglio parlare della routine del mattino, perché devi sapere che la qualità dell'intera giornata dipende da come si riposa e da alcuni gesti appena alzati, che fatti con costanza diventano attitudini che ci rendono più attivi, più energici e anche più efficienti. Al giorno d'oggi o almeno fino a qualche settimana fa, tutti noi viviamo intrappolati in vite dai ritmi frenetici, siamo stressati, frustrati, spesso soffriamo di insonnia e di disturbi digestivi, ma non facciamo nulla per cambiare. Perché? Semplice, perché ci sembra di non aver alternative, le ore di una giornata sono solo 24 e nella nostra testa comanda la convinzione che non ci sia altro modo di gestire il poco tempo a nostra disposizione, se non andando più veloci, sempre più veloci. Sto per svelarti che un'alternativa c'è ed è a portata di mano anche della tua, cambiare la tua routine del mattino. Prima di creare la mia routine del mattino mi sentivo come te, scarica, sotto tonno, perenemente in apprensione e oberata da un'agenda troppo piena e impossibilitata a fare ciò che davvero ha breve dato significato alla mia vita. Tutto è cambiato così, anteponendo la mia sveglia di circa 30 minuti, cominciando la giornata con una breve meditazione di 15-20 minuti, qualche piccolo gesto e una doccia fredda. Cose semplici che però mi hanno letteralmente cambiato la vita. Dopo aver fatto resistenza per mesi all'idea di svegliarmi presto, quando finalmente ho deciso di provare, ho potuto godere da subito di benefici straordinari, quali essere più leggera, più flessibile, più focalizzata, più consapevole delle mie scelte e anche più serena. E come se non bastasse, sono riuscita a recuperare mezz'ora per me, solo per me. Tempo in cui il telefono non squila, nessuno mi chiama, sono solo io con me stessa. Quindi ho creato tre video, tre mini guide che ti presenterò a breve, perché voglio suggerire anche a te di cambiare la routine mattutina, per aiutarti a prendere in mano l'orologio della tua giornata e perché no della tua vita e far sì che ogni giorno sia un buongiorno. A prestissimo!